Tra i vari attori abbiamo un caro amico che è tornato finalmente in auge con un film importantissimo, Film Acqua e Sporche di Mirko Aliverneni, devo dire un regista geniale che ha cercato di portare avanti la tradizione attraverso un progresso particolare, una tecnologia unica del suo genere e lui è stato un po' il precursore. Questo cinema fatto in maniera molto particolare ma assai emozionante. Molto emozionante ma poi Mirko ha delle doti magiche perché quell'aggeggio lì che poi mi sembra che anche voi ne facciate uso riesce a creare una fotografia, poi a dare emozioni ed è fantastico. È vero, è vero. Io ti ringrazio soprattutto perché tu dai sempre tante emozioni attraverso i personaggi che crei ogni volta diversi da quello più cattivo a quello che ha le sfumature psicologiche diverse e come ho detto anche precedentemente e riesci a portare tutte le tue esperienze, il calore del sud, la passione ma anche la razionalità del nord. Si vede che hai vissuto comunque anche Milano. Sì ma anche perché soprattutto quando si crea un personaggio del genere bisogna metterci molta psicologia e quindi razionalità. Io ti ringrazio, in bocca al lupo per tutto. Viva il lupo e grazie a voi.